Marco Anche quasi un punto fatto Insomma Il Marco che preserviamo dalla galera Ecco E assolutamente Nella cagata delle 21.38 E un'altra cosa Marco Sempre per evitare Brutte figure Appena erai in debito e scrivi Il colore sulle bai Insomma Mari se viene seccata una figa Così a ciaquare Sulle bai E vedi questa è gialla E Mari effettivamente si è appuncione E poi ria a fare brutta figura Mari sta qua Dice Non capisco I cuori Petta petta che ho da un altro E E Vabbè Che dice che è dal tonico Capisce Ti fa un po' piacere Che scrivo il penareo in debito I cuori Sbagliati E Marco Siamo sicuri Siamo sicuri che L'uomo mi resta da solo E poi farò serie Vatti intanto andando via Dici Ma era bisogno che mi paga però Vabbè Vabbè Quello latte che domandi a lui Sicuramente Ti paga Sì vabbè E 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 A E 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 Altro che 4K, 4K monitor flessibile, tipo letterina Esatto, altro che Samsung Phone Il cavo HDMI fa il fiozzo Sabe che non... il pesa come non so cosa, non so se c'è il trattore che non va a gas Trattore base, che forse è l'altra piccola, che è l'anfettino E' il carro che penso che fra 240 CV il carro non fa Ehhh, che ora... vabbè, ora il trattore Ma come che si dita il pesce? Si, ha proteggito il caramezzatore che gira Eh, se rompe il trattore Pena e foto fatta per la copertina Eh, da che... Eh... Guardati, quel trattore mar... Guarda che leva il trattore Guarda il trattore, levati C'è fin che cazzo tiri su i pedali e grazie al cazzo che impendi Adesso Adesso lo farà che tutto tocca, no? Adesso toccate fin su ora il camion Ah si Faria una roba, cioè che dopo ti bestemmi Cargo del muso Eh, sarà anche il trattore Ah, poi ripristino il trattore, sei a posto Magia Cobra, prima che Dio diventi qualcosa Wow Ma sei una volta amato di te Mi so sempre sta a casa in te Tutte... Questa parola non è supportata Oh... Oh che bello Un carico perfetto, mai stato così perfetto un carico Un carico Oh, adesso Marco si offende, occio Un carico Rè Ripeto Hai visto cosa ti ho mandato? Sì Il rè Rè Ah, adesso va a essere smorra d'osso Fate una pipa, eh Vai alla vicina Fali le coccole Adesso puoi cercare la fresca che giro Guarda che guarda che il giro dei capi Eh, no per te Un'altra risposta, non per te U Pues Ecco quando si smorza Che grazie Check sound Sembra male Mi sembra che avete una c***ata osso Sì Io vi ho fatto una p***a d'osso Però è una p***a straussata Sì. Ha straussato Potete di Un momento che si è c***a d'osso Scusate un attimo, torno subito. La barra? Eh sì, lo so che la barra... E a parte quella della Giundia che era battata. Beh, o sta con la barra o sta con il capannone, una delle due. No, quindi da venire avanti o rimorre? No, ripristina la barra dai. Sì, sì, beh. Marchino? Problemi con la barra? La barra della Giundia. Guarda la mamma che batte in statale. Come va? Oh no! Ti va a Baccaraz di Braga? Eh, se ti pregiudisti perchè se forse è una strada provinciale... Eeeh! Che sai che ho fatto? Ah, si è incastrata? Sì, perché la barra va incastrata. Si è capottata e è rimasta la petata. Eh! Marchiamo... Appettate un attimo, devo portargli via il camion... Prendo l'acqua e porto via il camion d'aria. Ho messo una... Te vedi i tramacci. Oh, ti ho mancato! Occio! Prendo se è pentino qua. Eeeh, allora... Dai tranquillo eh. Tanto aspetta che vi lascio qua rimorre più. Posso iniziare Marco Trebiare? Sì, sì, parte, parte. Tre, due... Devo sfidermi! Sì, sì, parte. Ehm... Eh... Perché mi sono qua visuale fuori? Eh, la barra, insieme alla barra... Eh, la barra... Dove sei a sta barra? È sotto il garage ma lei... Là. Eh, il solito posto. Ma non sei che sei incastrata? Te li hai fatta cascare? No, era già cascata da prima. ho tutti i testimoni eh si difende o anto beh ho ragione stavolta non è una cagata tutti i comunisti scondi tra me ma io un dio io povero questo cazzo è un mostro oh ma neanche col fende andavo ancora piano ho voluto attaccare il santo non ho ancora sentito uno si anche la voce è attaccata non so perchè ma non l'avevi disattivato eh si boom è una vera mamma che sbattò c'è da qualche parte ho detto ti ero dritto per piacere eh so come conoscenze questi pianto ti trovi in silenzio aspetta nate ok arco facilità e nate sono un poco speciale sono un po' a cazzo eh mi hanno chiesto una mano di vera no la portovacuia non va a tre più porto avanti mi illustri che cavolo stai facendo che cavolo spostando dalle balle ma perchè Apollo manda foto di motori che non di Apollo che smette di eseguire si come i fusibili attività se i camion non ho capito cosa che ha combinato i motori in cui ho dato ma sei la sentito sulla registrazione player asby kick si porco ecco tipo che se non parli tanto stava di merda qua ti butto si 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 oh vedo cose strane qua e ora due se le cose uno le attivo no le attivo se non le c'è non c'è è un attentato spietato eh ho visto su un capo molto della giornata un bel bel con del tavanea oh no casi masochista e fa beccare degli insetti ah è la mia colpa mia sei tavanese sconto in mezzo di pomidoro metri in lì ah beh te vuoi bene dai ciò ma guarda che esiste una roba chiamata autan eh come se funzionasse con il tavanea che vuoi fare eh ciò se ti butti in fiamma come se fosse profumo eh te credo hai avuto delle tonnellate ah perché fai com'è crema a sole alto no no bisogna mettersi col flitter prima di fare le robe col flitter eh si con lancia fiamma a questo punto di povero metti gasolio e ti tagli a poco eh ti vuoi mettere i pomodori carbonè orco cazzo per questa barra mi f***a ho avuto un pc sul campo che praticamente era 3 cm quadrati dell'orto e quando che mi versevo l'acqua che davo acqua a poi e non che andava bene che il getto che spruisava un po' di acqua sull'orto perché che l'acqua la non so se ti vuoi capire c'è piove che piove c'è un altro tipo di discorso è migliore che c'è 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 il fianco e i mega bestermadrio giustamente ma se ti racconta aria non mi non mi nonno non mi nonno e ora mi nonno che ha cavato un tubo cavando un tubo però cosa succede si andava un po' a e non si andava un po' a maestro e questo qua no e ora cosa ce l'ho fatto cosa stavano meso tubo quindi ho fatto 3 tubi e medio quindi forse me sa io non mi ha dato i balkoni e non mi ha dato l'orto perchè si andava e anche spagare l'acqua il getto e spaccato te invidia vi dita che ti spacchi l'acqua e e che ho aperto tutta la valgola perchè mi ho bisogno di imbarare ben tutto il campo e invece di quella sera fai un mese giro qua la valgola e troppo se sarzo l'acqua stasera verso la linea di nuovo dopo averla spostata guardo il primo getto e fa 10 metri di acqua tutta nebulizzata che era tutta la vita invitata e ho aperto tutta la valgola e ho messo un messo dentro il caponello a mio papà appena delle finestre guardare oh l'andai a guardare sull'orto se arrivava giussetta d'acqua e c'è stato la veda e ho detto se adesso va dentro il campo e vengo fuori qua qua se è stato dentro il fosso beh era arte il berillo dietro su un pochettino e c'è stato un pochettino e c'è stato un pochettino ma se sono dentro i marchi e se che ogni tanto il personaggio che posso farmi se sdoppia e se gli scansi a fatica e poi che se quello che fa se spettiamo adesso adesso perfetto meno fermo no sono pieno buonasera no no non è stato un pochettino perchè sta fai no che può fare ci vedete dopo quando è il prossimo ventaggio che io ho dovuto dare acqua all'orto e ho messo un getto lì vicino che bagnava l'orto che non aveva niente di seminare non aveva niente di seminare e mi ha detto qua se bagna l'orto perchè un copommeriggio è proprio un copommeriggio che è da fresare l'orto ah sono stato vedere per 3 giorni non ho visto una motosappa fuori anche a voi ammettevi di di che è fresare l'orto ho venuto con i 14 metri rotanti e ho fresato anche la casa povero oh vignaiolo perchè adesso casi dici dove vedi i trattori e lui è vero è figa sui campi è proprio che ciappa è figa qui che ha la gonnellina mini-gonna in jeans no la voxita è figa che ciappa ha la gonnellina che ha fracca per su il ponte su la puenta l'ingruma tutta la sera dio boi è orientato con noi è quello no ah la legge è acquistata bella acquista è proprio che vedo l'acca eh io voglio produzioni mega enormi quindi dopo diventa difficile stare dietro eh ha fatto un errore mi si è tornata a 450.000 litri si che dopo appena il tuo spot ti ti cagli d'osso marco che ho fatto un errore non gali attrezzature per smoggere appunto magari mette un mix station che volia eh eh posizionabile ti capisci una stampante di case di apposto eh ti sei in carcere praticamente no eh si vedi a stampare tutte le banconote da 500 eh non ci sono più da 500 tutte da 5 da 10 da 20 esatto hotelli piccoli sono quelli più utilizzati eh semmo andate a comprare una master poi ho tutti incontanti toghi a 20 da te voglia ma ci stanno ancora si ma beh no ma ti ti devi andare a convertire tocca andare là con la carioe no ma bisogna avere un casino no e ora là ma sentite verdi ah ma cazzo no cazzo no cazzo no il reparto campi si 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 ti investi dei giochi tipo invece di essere rulletta russa cazzo no 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 poi magari che invece della della ruota che che gira che gireo diretti le cagate del 304 penso delle corse coi cavalli che corse di pasta esatto e la se scommette dopo ovviamente ti fai i contratti con ovviamente i tt stampi ok no allora ti vedi al gestor ti fai un miliardo e mezzo e ti fai vincere 500 milioni e lui dice bo bo ah corruzione lui ciavo un miliardo e mezzo tt vici 500 milioni quindi i tt vinti praticamente i tt eh i ghe praticamente cos'hai e riciclati ricicli denaro e impariamo da Marco come fare il riciclaggio di denaro l'impianto elettrico 980 con 500 milioni solo quello eh non cazzo lo fai in oro ma scusami un secondo devo prendere fuoco e ma ti va a fare l'elicottero con il suo birillo in mezzo alla prima di iniziare dopo i due ma quindi che per dimmiare si d'accordo eh si 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 e voglio mostrare le abilità nel riconoscere i colori delle palle aspettate che tiro l'attenzione eh eh sulle di rio allenarsi con il libro dei colori e quindi e a fare l'elicottero con il birillo complimenti per la manovra eccellente si dimetti sennò uno come fa parcheggiare dentro per il gabiotto la para eh già l'hai fatta si guarda ti ribasso tutto ma in realtà posa anche in legno e che perne che crea un un effetto microclima esatto un effetto microclima caldo freddo che tiene in distanza il caldo perché dentro la cazzatura c'è ancora più caldo e quindi dissipa dissipa il calore il calore uscendo raffredda l'aria come il frigorifero una notte produci il calore per raffrovare eh invece che il compressore è il tuo cuo che si correva fa pressione fa pressione no 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 e quindi fa freddo no la mia questione è che quando viene sera mi fa spiancare le finestre che passa l'aria diciamo in poca parola che è il culorifero e dopo viene il musato che staccate io can non ho bisogno del clima non ho bisogno del clima non ho bisogno del clima